E allora, rieccoci in laboratorio, i miei discepoli, oggi torniamo, come ieri, a mostrare un altro acero campestre che è appena entrato in collezione e ve lo dico adesso e lo sapete già ragazzi, questa è una pianta che io cedo, che io venderò a breve quindi se siete interessati, poi mi scrivete madonna, ancora deve perdere le foglie, ma è una bomba e vi dico subito sta cosa, ragazzi poche pugnette, ok, poche pugnette, poche pugnette, ok, come avete visto ah, per quelli che volevano l'olmo, è arrivata anche la mail, venduto, venduto l'altro acero, come questo, venduto, ok, questo breve, venduto, non c'è più un cazzo, non c'è più un cazzo, va bene andiamo a vedere, 360 gradi, cerchiamo di capire bello, cerchiamo di capire come può venire fuori un materiale del genere, che come vedete ha questa forma di albero, ok, bello eretto formale, anzi qui, che bomba ci tengo a precisare una cosa ragazzi, gli aceri sono aceri, piacciono a tutti, come avete visto, ed è un macello tutte le volte, ok però questi sono belli, perché sono veramente da costruire, questi costruiscono velocemente cioè i campestri, vum, vum, ok, quindi bello, proprio divertente già che ci sono, gli do due tagli, eh, così dai, così avete già per chi si prende la pianta, avete già la bozza, ok ci tengo a metterci mano, perché così, intanto mi porta a casa la pianta già pronta e in più sapete anche, quando venite qua, poi vi spiego anche tutto, eh, naturalmente perché tanto, mamma mia, questo non serve e così avete già le idee belle e chiare anche sul proseguimento della questione, ok vedete due tagli e abbiamo già creato quella forma con la forma di albero che deve andare su così, ok quindi abbiamo il piede, la pianta c'è un piede della madonna bella, bella, tosta, grossa, ok qui l'hanno, l'hanno mozzato, sto pezzo grosso magari se lo facevano andare un po' più in su, forse poteva essere meglio però ho già tutti i rami che partono ho già gemme sul tronco qui, anche qui qui le ho tagliate prima qui ce li ho anche qui quindi se lo voglio posso fare anche un altro ramo che è bello, bello mi piace, ok, questo è bello anche l'altro era bello però questo mi piace veramente tanto via questo via tutti questi monconcini come vedete ragazzi questo sembra veramente un albero, ok bellissimo c'è un sacco di rami poi guardate che forma che c'ha e anche qua ha tutte le gemme pronte quindi prossimo anno vi farà tutto e di più detto questo chi è interessato mi scriva e soprattutto chi è interessato tiri fuori i soldi così qui si porta a casa un bel materiale bomba che può diventare un buon sai di spessore ok l'acero campestre c'è nel prossimo video così ve ne faccio vedere un altro vi dico sta cosa io sto girando questi video tutti nello stesso giorno ok quindi c'è caso che quando mi iscrivete ciao a tutti fate i bravi c'è nel prossimo video così vi faccio vedere anche il prossimo ok ciao a tutti